Le ragioni del Movimento 5 Stelle sono note da tempo, un sì convinto, motivato e anche combattuto e ricercato. Quali le ragioni del sì? Le motivazioni per cui il Movimento 5 Stelle dice di votare sì sono principalmente il rendere il Parlamento più efficiente e più moderno. Ad oggi noi vediamo nei dibattiti parlamentari, anche nelle modalità in cui si svolge il confronto sia in aula sia nelle commissioni, a volte l'impossibilità di parlare per giungere alla definizione dei risultati facendo partecipare tutti. Naturalmente un Parlamento più snello renderebbe i lavori più efficienti, più moderni anche nel modo di lavorare. Ed è per questo che noi in ragione di una migliore efficienza e anche di una migliore presenza di classe politica, di rappresentanti parlamentari, vogliamo ridurre questo numero anche per fare in modo che gli stessi partiti scelgano persone migliori. FICO qualche giorno fa da Modena ha lanciato una rassicurazione sulle riforme, prima di tutto quelle elettorali, che andrebbero comunque in porto. Ci sono altri anche da parte del PD, dal fronte del no, che dicono che se non state fatte fino adesso, insomma, è difficile credere che si possano fare. Lei è convinta, sente questa determinazione a livello parlamentare e di governo di procedere con queste altre riforme che andrebbero da cornice a questa? La riforma organica della legge elettorale è stata tentata da molte maggioranze, anche nei governi precedenti, e non è mai andata in porto. Proprio perché una riforma organica, che contiene tante modifiche, è passibile di convergenze parziali. Le persone, sia le forze politiche, sia i cittadini, poi chiamati a votare, come abbiamo visto nell'ultima riforma Renzi, hanno detto no perché chi era contrario a una parte, chi contrario a un'altra parte, chi contrario a una terza parte, e alla fine tutti i contrari parziali fanno una contrarietà assoluta. Quindi la proposta di procedere per step, per passi piccoli, è attualmente l'orientamento delle forze politiche. E questo naturalmente è il primo passo, il primo di una serie di passi che anche noi, come Movimento 5 Stelle, abbiamo già messo in cantiere. Abbiamo già fatto due letture parlamentari, ad esempio, sull'abbassamento dell'età di voto per l'elezione del Senato, quindi l'allargamento della base elettorale per l'elezione del Senato, che significa... E quindi le riforme elettorali le faremo, la faremo successivamente, anche questa, e perché sicuramente anche qui sarà, anche se abbiamo fatto una modifica alla legge elettorale attuale, per renderla compatibile con un numero qualsiasi di rappresentanti in Parlamento, in realtà poi le forze politiche chiedono una nuova legge elettorale, quindi anche qua saranno fatti i passi necessari.